BOOM! Oh figlio, mamma mia! Era un ghost! Ah, è 300 all'ora, ma vabbè! Ricordi che lui è da grande! Mi ha spigolato il figlio, però vabbè, oh, capita! Sulla ginocchia, sulla ginocchia! No, ho preso una mappa! No! Questo romanzo lo vedete? Sulla ginocchia! Doppio d'acqua! Ui! E gol! Eeeh! Sto sponda! Non ci credono! Mischia! Botta! 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 No! La macchina è molto più comoda, però puoi parcheggiare l'angolo! Oh, ti hai fatto a benzina! Ma che male è quello che vuole? Ma che male è quello che vuole? E' quello che vuole! 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 Buon sopra! Qui ti erano soldi per cercare casa! Quindi alla fine di qui ci sono già cascate!